Buongiorno da FT Online, momento delicato per la borsa. Abbiamo infatti il Fuzzi Mib che con i minimi di oggi è tornato praticamente a testare quelli di marzo. Quindi siamo in area 21.000 punti dove si colloca anche il 50% di retracement del rialzo dai minimi di marzo 2020. Se dovessimo assistere a un ritorno di sopra di area 21.500 potrebbe esserci la speranza di un tentativo di ricopertura del gap lasciato dietro ai prezzi e fino a quel momento invece c'è ancora il rischio di una discesa di sotto ai 21.000 punti. Con la violazione di quei livelli saperebbe un ulteriore spazio di ribasso di almeno altri 1.500 punti. Per quello che riguarda il DAX, ieri abbiamo visto che i prezzi hanno archiviato la seduta con una candela di tipo Hammer, questa particolare tipologia di candela che ha questo piccolo real body, ovvero lo spazio compreso tra apertura e chiusura, molto piccolo e tutto compreso nella parte alta del range e questa lunga coda verso il basso. Quindi è una candela che tipicamente compare in prossimità di forte aria di supporto, in questo caso ovviamente sono i minimi di marzo, e che può fornire lo spunto per un rimbalzo. Oggi infatti dopo il test dei minimi della candela di tipo Hammer c'è stata una reazione, anche qui però diciamo che fino a che rimaniamo di sotto di aria 13.000 la speranza che questa reazione estenda resta limitata. Sopra i 13.000 punti invece potremmo assistere ad un rimbalzo un po' più consistente sotto 12.500, attenzione perché anche in questo caso c'è il rischio di un ribasso di almeno altri 1.000 punti, quindi potrebbe esserci poi uno scivolamento veloce verso il basso. Se guardiamo il grafico dell'S&P 500, vediamo che ieri c'è stata una fase di calo abbastanza accentuata, poi però i prezzi sono riusciti a rimbalzare e allontanarsi dai minimi in chiusura, i minimi di seduta avevano ritracciato la metà circa del rialzo che si era visto dal minimo di giugno, quindi siamo in una situazione di equilibrio dove si potrebbe evolvere lo scenario in entrambe le direzioni, del resto siamo nella porzione centrale di questo canale ribassista che parte dal massimo di fine marzo, quindi se dovessimo vedere i prezzi che riescono a riportarsi al di sopra dei massimi di ieri, quindi direi con una rottura di area 3.825, 3.830 sarebbe possibile il test da parte alta del canale, intorno ai 4.000 punti dove troviamo anche la media mobile esponenziale a 50 giorni, se invece dovesse venire confermata una discesa di sotto di area 3.735 ci sarebbe il rischio di andare a vedere la parte bassa del canale che attualmente passa intorno ai 3.510-15 punti. Questo è il grafico dell'ETF short leva 3 sul Fuzzimib, ieri c'è stata la rottura del 50% retracement del ribasso dai massimi di marzo, i massimi di questa mattina sono arrivati molto vicini al 61.8% di retracement, c'è stata poi una veloce ritirata da quei livelli, per adesso però il segnale rialzista, quindi ribassista per l'indice, non è stato cancellato, solo sotto 1.32-1.33 ci sarebbe una prospettiva di assistere a una fase di discesa più consistente per l'ETF short e quindi di ripresa per quello che riguarda l'indice. Da seguire con attenzione, secondo me in questa fase ENI, vedete questo è il grafico a elementi giornalieri, i minimi di oggi hanno toccato i minimi di qualche giorno fa, si sta delineando un possibile, non probabile, ma possibile doppio minimo, quindi abbiamo perlomeno una frenata della discesa e se andiamo a guardare il grafico se dovesse esserci il superamento di area 11.55, potremmo aspettarci un nuovo test dei massimi di due giorni fa intorno a 11.95, sopra quei livelli poi avremo uno spazio di crescita di almeno altri 70 centesimi. Quindi ENI da seguire con attenzione, diciamo che la vicinanza con l'area di supporto critica a 1.17-1.18 permetterebbe già su questi prezzi, eventualmente per chi opera in ottica più aggressiva, di attivare delle posizioni a rialzo con uno stop subito sotto i minimi di oggi e un primo target in area 1.92-1.93 e sopra quei livelli, poi come abbiamo detto con la possibilità di salire fino a 12.60 circa. Per quello che riguarda il video riservato agli utenti Patreon andremo a guardare questi quattro titoli che oggi si stanno comportando abbastanza bene, Leonardo, Tenaris, Generali e Amplifon, quindi basta che cerchiate su patreon.com FTA online per vedere questi contenuti aggiuntivi. Vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro un buon fine settimana e vi do appuntamento al prossimo video.